Senti lo scemo, ma del capitolo dei boccioni il professore che chiede? Zì te l'ho detto io delle parti importanti. Ho capito zì, ma qua è tutto mezzo importante. Perché non sai studiaffili? Usi troppi colori, te confondi, te basta una penda solo. Senti lo scemo, ti volevo chiedere una cosa, ma secondo te il fatto che le forme uniche nella continuità dello spazio l'hanno messa sulla moneta da 20 centesimi, è una scelta mezza degradante. Voglio dire, non la potevano mettere almeno sulla moneta da euro? No fili, sulla moneta da euro c'è sta l'uomo di vitruvio. L'uomo di vitruvio è un concetto da due specie, se ti metti a braccia chi stai se stai inquadrato, se ti metti a quattro le spade stai dentro al cerchio, non mi pare un'idea troppo matta. invece delle forme uniche nella continuità dello spazio, c'è sta tutto quanto uno studio sul movimento che è tipico della poetica futurista. Ssshh! Sto a studiando. Senti lo scemo, io in biblioteca non mi riesco a concentrare. Ma perché a casa tua ti concentri fili? Senti lo scemo, io in biblioteca non mi riesco a concentrare. Senti lo scemo, io in biblioteca non mi riesco a concentrare. Senti lo scemo, io in biblioteca non mi riesco a concentrare. Io in biblioteca non mi riesco a concentrare.